I ragazzi oggi piccoli domani diventeranno degli uomini, quindi avere la possibilità di leggere dei libri, potersi formare, è per noi motivo di orgoglio nell'aiutarli a crescere. Aiutaci a crescere, regalaci un libro, è un'iniziativa dedicata a promuovere la lettura e l'educazione nelle scuole. Nel giorno del suono della prima campanella una doppia donazione alla scuola Rita Levi Montalcini di Lucignano e Marciano della Chiana, grazie al sostegno di una realtà produttiva del territorio che ha deciso di investire nell'acquisto di una vasta sezione di libri. Questa è una di quelle iniziative che fanno bene al cuore perché guardano al nostro futuro, guardano al futuro dei nostri ragazzi, quindi donare dei libri ai nostri plessi che sono l'infanzia e la primaria significa formare dei ragazzi fin dalla primissima età. Ovviamente essendo docente credo nella cultura profondamente, una cultura che comunque non è solo a parole ma è una cultura di fatto, io la chiamo una cultura di fatto, cioè il sapere perché comunque è tramite il sapere che si diventa grandi e si amplia la mente e quindi il sapere è alla base di tutto. Ogni libro rappresenterà una finestra aperta su un mondo di conoscenza e ispirazione per gli studenti contribuendo a coltevare il loro amore per la lettura e l'apprendimento. La lettura deve essere un piacere, è una proposta che noi facciamo in tutte le nostre scuole e al di là della bellezza del libro cerchiamo di rendere anche l'ambiente accogliente. A casa dove si legge il libro? Si legge sopra il divano, sul letto, sdraiati a terra? A scuola non si può leggere soltanto sul banco, seduti come se facessimo un compito, dobbiamo leggerlo con piacere. Quindi nelle nostre scuole stiamo cercando di creare angoli in cui poter rendere la lettura confortevole possa diventare la spinta per invogliare i nostri bambini e i nostri bambini alla lettura.